Tutta la Valcuvia per il terzo anno consecutivo tornerà a riempirsi di note ed arte grazie alla rassegna Fare Musica, organizzata dal comune di Casalzuigno. Sentiamo. Fare Musica per il terzo anno torna alla manifestazione musicale organizzata dal comune di Casalzuigno. Tantissimi come da tradizione gli appuntamenti con concerti e manifestazioni diverse come seminari, visite agli atelier degli artisti locali e visite guidate alle bellezze della zona. Per la prima volta quest'anno Fare Musica uscirà dai confini comunali per andare alla scoperta di angoli della Valcuvia poco noti anche agli stessi abitanti. Il tutto pensato per valorizzare risorse e artisti locali. La grande maggioranza sono artisti locali e artisti che vengono da fuori ma che lavorano con gli artisti locali. Oppure ci sono artisti che sono anche di livello internazionale che vengono veramente da fuori e che vengono legati alla Valcuvia per frequenza. Si comincia venerdì 18 maggio con il concerto della compagnia Tango Bailongo che inizierà alle 21.15 nella splendida Villa Bozzolo e si continuerà per tutto il weekend con visite guidate, proiezioni e mattinate presso gli atelier degli artisti di Casalzuigno. La manifestazione continua anche l'ultima settimana di maggio e ricomincerà a settembre. Per maggiori informazioni consultate il sito internet www.comune.casalzuigno.va.it www.comune.casalzuigno.com